Benvenuti al nostro appuntamento con la rubrica Oltre il significato della scuola del popolo di Oristano. Questa settimana mettiamo a confronto altre tre parole che vengono spesso utilizzate fuori contesto o con accezioni non propriamente esatte, verità, opinione, informazione. Partiamo da verità, il cui termine greco era aleteia, composto da alfa privativo e letos, che vuol dire propriamente oblio, dimenticanza. Per inciso ricordiamo che il fiume leite era il fiume dell'oblio. Quindi il termine è il significato di non nascondimento. In latino questo termine viene tradotto con veritas, veritatis, derivazione dell'aggettivo verus, che è anche il significato di ciò che corrisponde esattamente ad una determinata realtà. Per verità nel dizionario della lingua italiana tra le altre definizioni si trova caratteristica di ciò che è vero rispondente alla realtà. Non ci dovrebbero pertanto essere dubbi nel distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Ma nei tempi dei social della realtà virtuale aumentata non è più così semplice, tant'è che la verità spesso diventa un'opinione, sempre dal latino opinio opinionis fino al verbo opinari e che è un'idea che uno o più persone si formano riguardo a particolari fatti, fenomeni, manifestazioni, quando mancando un criterio di certezza assoluta nel giudicare della loro natura o delle loro cause, delle loro qualità, si propone un'interpretazione personale che si ritiene esatta e a cui si dà perciò il proprio assenso, ammettendo tuttavia la possibilità di ingannarsi. Il verbo opinari, da cui deriva il sostantivo opinione, ha in latino il significato anche di credere, pertanto oggi, nell'era dei social, come dicevo prima, il termine opinione è più vicino al significato originale di ciò in cui credo o preferisco credere, che è quello di interpretazione personale dei fatti, per la quale ammetto anche la possibilità di sbagliarmi e quindi modificare la mia opinione. Oltre che personale, l'opinione può essere anche pubblica, cioè il giudizio e il modo di pensare collettivo della maggioranza dei cittadini, in quanto a esigenze, convinzioni, archeggiamenti mentali comuni. Ma questa opinione pubblica, collettiva, così come quella individuale, si forma attraverso l'informazione, dal latino informazio, informazione, derivazione del verbo informare, che è un'ozione, un'idea, una rappresentazione. In epoca tarda aveva anche il significato di istruzione. Ma chi ci forma e pertanto ci mette nella situazione di poterci formare un'opinione, oltre che conoscere, se non la verità, almeno una verità sui fatti? Le notizie, alterate spesso dal passaggio dalla bocca all'orecchio, sono man mano che nel tempo avanzava il desiderio o la necessità di informazione, divenute sempre più precise, utilizzando nel corso dei secoli mezzi più sofisticati, fino ad arrivare ad oggi, in cui la verità, o supposta tale, viene trasformata in notizia e diffusa, attraverso innumerevoli canali di comunicazione, ad un numero sempre maggiore di persone, in grado di formarsi, se vogliono, un'opinione. Ma ci dice Jacques Attali, economista e saggista francese, che ha esaminato in profondità il problema dell'informazione, che giornali, riviste, canali tv e social sono anche strumenti di distrazione di massa e di illusione collettiva, utile a far dimenticare al popolo, di non avere ancora accesso ai beni più rari, a un'educazione di qualità e a tutte le notizie, anche quelle riservate. La massificazione dell'informazione, che dovrebbe essere un fattore di democratizzazione, alla fine non si rivela altro che un meccanismo di proletarizzazione delle masse, delle classi medie, è un mezzo per mantenerle in stato di subalternità e che i social tendono sempre più a racchiudere le persone in bolle che confermano le loro certezze e rendono sempre più difficile conoscere cosa pensi davvero l'altro e quali siano le sue argomentazioni. Probabilmente queste considerazioni di Attali sono quelle che fa qualsiasi utente consapevole dei social, l'utente che non insulta, non incita all'odio, non fomenta rabbio e risentimento ed è ancora in grado di utilizzare uno spirito critico. Ma quali saranno, e in parte sono già in vista, le conseguenze di questa deriva maleducata e ignorante che assume come verità vera solo la propria, che si fa incantare dalle sirene del populismo e non concepisce la possibilità del dubbio, che non riflette ma si riflette negli specchi di realtà deformate, probabilmente una società che non sarà più in grado di distinguere tra bere falso e che, come dice sempre Attali, sarà composta da tre gruppi di persone, i ricchissimi, quelli che su questa deriva hanno saputo speculare e ne hanno tratto profitto, i poveri, costretti, come già in parte accade, a lasciare le proprie case per non morire di fame, e un terzo gruppo composto da quelli che non facendo parte del primo sperano di entrarci, con il terrore però di finire nel secondo. Non è una prospettiva tranquillizzante, probabilmente anche un modo apocalittico di descrivere il futuro, ma è indubbio che la verità oggi sia più che mai relativa, che le opinioni si formano attraverso gruppi ristretti e che l'informazione indirizza, i social ammaestrano e la tv intorpidisce. Grazie dell'ascolto e alla prossima.